Continuano le attività di controllo da parte della Polizia Locale di Foggia. Nelle serate del 5 e 6 marzo, infatti, gli agenti, nell'ambito del progetto Weekend Sicuro, hanno posto in essere un'intensa attività operativa volta al rispetto delle norme anti-Covid e del Codice della Strada. Sanzionato per violazione alle norme anti-Covid, il gestore di un chiosco in piazza Coppingen, a due passi da Piazzale Italia. Tre pattuglie, coordinate sul posto da un ufficiale, sono intervenute in via Podgora, nel quartiere Ferrovia, dove, durante i controlli, hanno proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo due veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa. Gli agenti hanno anche contestato nove verbali per violazioni al DPCM del 2 marzo 2021 a persone che non indossavano la mascherina e che stazionavano in un circolo privato in via Piave. All'arrivo degli agenti, gli avventori stavano giocando a carte, sanzionato anche il titolare dell'attività. Infine, anche con l'impiego del sistema street control, sono stati sanzionati 80 veicoli in sosta irregolare. Per l'assessore comunale con delega alla sicurezza, Alessandra Loretti, la quale si trova spesso impegnata in prima persona nella verifica e nel controllo della situazione, soprattutto tra le vie del quartiere Ferrovia, in questo momento è fondamentale che tutti diano il proprio contributo, anche segnalando eventuali infrazioni alle autorità. Siamo soddisfatti del complesso lavoro svolto dalla nostra polizia locale, che ancora una volta ci sostiene su questo fronte, stando dalla parte di tutti quei residenti che ci chiedono di intervenire con tutti i mezzi, ha affermato il nostro impegno proseguirà su questa strada, facendo sentire ai cittadini la presenza e la vicinanza che ci richiedono.